Cari visitatori di questo sito, vi saluto e mi presento, sono Serafino Massoni, se ho un unico merito è quello di avere inventato la RID therapy, che significa terapia tramite la lettura di buoni romanzi, perché ho verificato che molti, dopo aver letto dei buoni romanzi, hanno visto dissolversi quasi tutti i loro problemi. Ho conosciuto personalmente amici che dopo aver letto i miei romanzi, come d'incanto sono tornati felici e sereni. Fate anche voi come loro, leggete almeno i miei due ultimi romanzi, e cioè La lama e la rosa e Il marinaio delle antille, entrambi pubblicati dalla casa editrice Ali Berti e distribuiti in tutte le librerie dalla casa editrice Lizzoli. Addirittura La lama e la rosa è stata portata nell'edicole da Hachette per ben due volte e in una tiratura eccezionale. Seguite il mio consiglio e riacquisterete la serenità e vi sembrerà di stare quasi in un nirvana. Tanti saluti e tanti auguri da Serafino Massoni e a risentirci alla prossima puntata. Grazie.